20 dicembre 1917 In Unione Sovietica viene fondata la CECA Antenata del KGB, è la prima polizia politica segreta voluta da Lenin e Dzerzhinsky per combattere i nemici del nuovo regime bolshevico In pochissimo tempo, grazie a infiltrazioni e operazioni di spionaggio la CECA riesce a eliminare gruppi controrivoluzionari ricorrendo anche a esecuzioni sommarie Viene sciolta nel 1922